Ed era, senti questa, We Are The World, Ambrojo Kurti ci ha lasciato veramente con un bellissimo regalo che si collega soprattutto a quello che stiamo per andare ad affrontare proprio in questo momento. 8 e 14 minuti, ancora qui in diretta su Crystal Radio, Good Morning Milano, parliamo di un'installazione che avete visto fino a ieri, sicuramente l'avete vista, non è passata inosservata per niente, e quindi anzi complimenti a chi l'ha pensata, Climate Change Doesn't Existe, così si chiamava, era una macchina crivellata di grandine, ma andiamo a capire bene con che cosa è stato e perché lo è stato con Gloria Zavata, Presidente di Fondazione Cesvi, buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie mille di essere qui perché insomma ci avete colpito, anzi colpito con tanta grandine, ma con anche veramente un messaggio molto interessante, fatto appunto da Fondazione Cesvi insieme a Factanza. Prima però di entrare nella fattispecie dell'installazione, ricordiamo bene che cosa fa Fondazione Cesvi e come mai è poi arrivata a questa installazione in Paolo Sarpi? Fondazione Cesvi nasce una quarantina di anni fa a Bergamo con l'intenzione di portare appunto la nostra operosità di italiani in giro per il mondo per sostenere le popolazioni più vulnerabili. E quindi siamo stati presenti purtroppo, dico purtroppo perché non è mai una grande vanto, negli più importanti scenari di difficoltà delle varie comunità in Africa, in Sud America, nel sud-est asiatico. Oggi è presente per esempio anche in Turchia dopo il terribile terremoto, in Marocco dopo il terribile terremoto. La nostra attività si svolge soprattutto con fondi pubblici che sostengono le cooperazioni internazionali e con fondi privati che altrettanto vogliono innescare processi di cambiamento all'interno delle varie comunità, appunto come dicevo, nei paesi più in difficoltà. L'idea di questa installazione nasce da un progetto che ci vede coinvolti in Pakistan, noi in Pakistan siamo presenti dal 2005, dopo le alluvioni terribili che hanno causato più di 1800 morti, milioni e milioni di sfollati, bambini senza una casa, senza cibo, senza sostegno, senza acqua potabile perché ha distrutto tutto, anche i pozzi che esistevano diffondendo malattie, eccetera, eccetera. Il nostro sostegno è permesso appunto dall'Unione Europea che vuole riportare un miglioramento delle condizioni di vita e permettere appunto a questa popolazione di ricostruire il proprio futuro. L'idea era quella di dare davvero un senso di presenza, quasi vicinanza, nel senso che appunto, che cosa qualcuno direbbe? Che ci azzecca una macchina, un'utilitaria rossa, crivellata di grandine con il Pakistan? Qual è il collegamento che in realtà ci avvicina tantissimo, no? Moltissimo, moltissimo perché abbiamo un paese che è tra i minori contributori al cambiamento climatico con delle emissioni molto molto basse che contribuiscono pochissimo a questi eventi estremi causati dal cambiamento climatico e dall'altra parte del mondo rispetto a noi. Quindi sensibilizzarci dicendo la nostra azione, l'azione di tutti gli altri paesi del mondo possono causare danni in queste realtà. La nostra impressione con quest'auto appunto crivellata da chicchi di grandine giganteschi che ovviamente speriamo non avvenga mai, è quella di riportarci tra la nostra realtà, che è quella di un danno che può succederci, li abbiamo visti anche in Italia purtroppo, gli eventi estremi causati dal cambiamento climatico, in altre parti del mondo generano delle distruzioni ancora più forti, ancora più drammatiche. Ed è anche uno squilibrio, un'ingiustizia per queste popolazioni che vivono i danni e non ne hanno mai, non ne traggono mai benefici. Il tema è stato proprio quello di sollevare un po' le coscienze, anche contrastare quello che viene spesso detto, appunto il cambiamento climatico non esiste, non è vero, esiste, ci sono questi eventi estremi sempre più frequenti, sempre con maggiori danni e di persone di vite umane e anche di danni materiali e anche di danni che possono essere causati della biodiversità, che non si può ricostruire così facilmente come si può pensare, vabbè ho distrutto una casa, la ricostruisco, non è così. Eh infatti perché noi poi dopo abbiamo visto i danni, per esempio qua a Milano, fortissimi del famoso, della famosa, come si dire alluvione in un certo senso appunto del 23 luglio e l'abbiamo poi visto una città che si è rimboccata le maniche, ma di molte cose ancora oggi ne vediamo le conseguenze, alberi ancora comunque sradicati, parchi con meno alberi, ecco per noi è solo quello, ma nel mondo effettivamente poi è molto molto di più. A me fa ancora un po' specie ma pensare che nel 2023 ci sia chi neghi l'emergenza climatica, cioè mi sembra una cosa così palese, così anche portata avanti da anni e anni dagli scienziati, che invece è ancora così, c'è ancora bisogno di ribadire e fermare qualcuno e dirgli no, guarda che esiste, smette di negare, poi a un certo punto avete detto anche che negare o ignorare l'emergenza non ce ne mette a riparo, voi usate anche questo modo di dire. Questo è molto importante appunto, purtroppo la scienza ci ha dato questi avvisi ormai da oltre vent'anni, c'è stato un primo momento in questi ultimi vent'anni in cui molti scienziati erano ancora titubanti, oggi non ce ne sono più di tecnici, scienziati, operatori che possono dire che questo cambiamento climatico non esiste e che non fa danni terrificanti e saranno sempre più frequenti, queste sono le previsioni, interferendo anche con l'attività economica di tutti i paesi, di tutte le realtà, solo che alcune realtà non hanno le capacità di resilienza o di adattamento che possono averne altre e soffrono molto molto di più. Bambini che appunto non hanno da mangiare, non hanno da bere, non hanno più case, non hanno più l'agricoltura che possa dargli un sostegno. Noi lavoriamo in questo senso proprio per sensibilizzare anche a fare piccoli cambiamenti nella nostra realtà quotidiana per andare a affrontare e risolvere, sapendo che questi temi si possono affrontare e si possono risolvere con l'impegno di tutti, dai governi nazionali, locali, internazionali come le COP, dove si decidono un po' le linee politiche internazionali appunto che poi investono tutti i paesi. Ma anche ciascuno di noi può fare un piccolo intervento, quindi l'azione comune governativa, antilocale, autorità pubbliche e ONG come le nostre, piuttosto che le imprese private che intervengono e ci supportano spesso in queste iniziative possono fare davvero la differenza e invertire questa rotta che dobbiamo e possiamo fare. Perfetto. Se vogliamo saperne di più, se vogliamo approfondire il tema, dove possiamo trovare le informazioni su Fondazione Cesvi e su quello che fate e che operate nel mondo e in Italia? www.cesvi.org. Lì si possono trovare tutte le informazioni, il nostro rapporto sociale che dà le indicazioni di tutte le nostre iniziative ed è da anni, da oltre vent'anni che pubblichiamo costantemente tutte le nostre iniziative, tutti i fondi, da dove arrivano e come vengono spesi. E questo è molto importante perché uno dei nostri mantra, diciamo così, è quello di essere tempestivi negli interventi di supporto appunto alle popolazioni colpite, ma anche molto trasparenti in modo tale da poter garantire anche ai donatori, che invitiamo a essere sempre più numerosi e più generosi, ad avere dall'altra parte un soggetto che riesce a rendi contagli fino all'ultimo euro speso per appunto sostenere le comunità in difficoltà e soprattutto i bambini. Quindi volete partire dal sito internet appunto diciamo www.cesvi.org, giusto Presidente? Sì. Capire come vengono spesi i soldi, massima trasparenza e poi magari darne anche così almeno ne spedono meglio e di più. Quindi possiamo tranquillamente aiutare il Cesvi anche tramite il sito internet, poi si può avvicinarsi, avete anche dei volontari, voi insomma si può fare tanto, giusto? Si può fare tantissimo, ma soprattutto nel proprio quotidiano e nel convincersi che questa tendenza possiamo invertirla tutti insieme. Infatti come dicevo qualche giorno fa il punto di non ritorno non è ancora stato toccato, possiamo ancora farcela, impegniamoci tutti insieme magari seguendo anche le indicazioni degli scienziati e anche delle fondazioni come Cesvi che ci danno delle rette vie da seguire che possiamo tranquillamente far diventare nostre nella quotidianità. Grazie mille Presidente. Grazie a voi. Stata gentilissima presto, buon lavoro e buona giornata allora. A tanto, buongiorno. Grazie mille ancora allora a Gloria Zavata, Presidente di Fondazione Cesvi. Andate sul sito appunto e vedrete anche sicuramente le foto della bellissima installazione che sarà fatta in Paolo Sarpi. Noi andiamo avanti con un po' di musica, rimaniamo in quella di Milano perché è il momento di Mahmood con tuta gold.